Kevin Spacey è stato dichiarato non colpevole di nove reati sessuali ai danni di quattro uomini che sarebbero avvenuti tra il 2004 e il 2013. Lo hanno stabilito i giurati della Sodwar Crown Court nel sud di Londra. Un processo durato settimane, il due volte premio Oscar per i soliti sospetti American Beauty, 64 anni compiuti proprio nel giorno del verdetto, ha sempre negato le accuse definendole una follia e una pugnalata alle spalle. Immagino che molti di voi possano capire che per me c'è molto da elaborare dopo quello che appena è successo oggi, ha commentato davanti al Tribunale. Sono enormemente grato alla giuria per essersi presa il tempo di esaminare attentamente tutte le prove e tutti i fatti prima di arrivare alla decisione e sono onorato del risultato. Durante il processo il pubblico ministero ha detto che Spacey è un bullo sessuale e un uomo che si diletta a far sentire gli altri impotenti e a disagio. L'accusa più grave è stata formulata da un aspirante attore che ha raccontato di aver contattato Spacey per consigli sulla carriera. Lui lo avrebbe invitato nel suo appartamento di Londra due settimane dopo e aggredito sessualmente. Ha inoltre affermato di essere stato drogato e di essersi svegliato mentre Spacey compieva un atto sessuale su di lui. L'attore ha dichiarato alla corte che i due avevano condiviso una serata consensuale, piacevole e bella.